Buongiorno a tutti, bentornati per le pillole di antropologia. Abbiamo saltato una settimana, abbiamo preso un po' di riposo, io ho dovuto scrivere delle cose, seguire delle tesi, e oggi torniamo con un piccolo riassunto di quelli che sono stati i temi centrali delle ultime lezioni che abbiamo fatto, che hanno riguardato proprio un periodo storico fondamentale, che è quello in cui i paesi colonizzati hanno cominciato delle lotte di liberazione nazionale e hanno cominciato appunto a attaccare quelli che erano i governi coloniali e quindi a trovare un'indipendenza, un'indipendenza appunto che non era soltanto un'indipendenza economica, politica, ma era soprattutto trovare un'indipendenza culturale, cioè distruggere quell'egemonia di sguardo eurocentrico, etnocentrico, che era stato creato dal colonialismo. Cosa non semplice, cosa molto spesso ancora non del tutto realizzata perché è sotto gli occhi di tutti che viviamo ancora un mondo dove le visioni etnocentriche, eurocentriche, coloniali sono ben in atto e lo vediamo anche con l'attualità, quello che sta succedendo in questi giorni in cui i nostri politici parlano di regolarizzazioni soltanto perché vedono ancora oggi l'altro, quindi in questo caso i migranti, gli immigrati che sono in Italia e che lavorano, come merce da utilizzare. Quindi li regolarizziamo perché abbiamo bisogno di braccianti, colfe, badanti che ci risolvano dei problemi e che facciano i lavori che noi non vogliamo fare. Questa è l'altra faccia della medaglia del razzismo e dello sguardo coloniale e che vede appunto uomini e donne soggetti non come umanità e quindi persone come noi ma persone che ci possono essere utili e quindi pensiamo a una regolarizzazione. Quindi una senatoria a metà che non dà il diritto di circolazione, di cittadinanza a tutti i lavoratori, le lavoratrici, i migranti ma che sceglie una fascia super sfruttata per continuare a sfruttarla e dare la possibilità a queste donne e questi uomini di lavorare per aiutarci a colmare quello che noi non sappiamo fare, non vogliamo fare o non possiamo fare. Quindi insomma ancora oggi uno sguardo coloniale c'è anche nelle politiche chiamate progressiste. A lezione però abbiamo visto tutta l'importanza che ha il processo di decolonizzazione e come è fondamentale comprendere gli studi postcoloniali. Con la fine delle colonie noi abbiamo avuto svariate movimenti interessanti sia politici che culturali, abbiamo visto l'importanza di una creazione di cinematografia postcoloniale, africana, aborigena, indigena per quanto riguarda tutto il mondo dell'Amazzonia e di come queste contronarrazioni hanno finalmente preso le reddini dell'autonarrazione, cioè di riscrivere una storia che era sempre stata scritta dagli occupanti, che era sempre stata scritta dai colonizzatori. E quindi insomma noi grazie al periodo della decolonizzazione vediamo anche uno scontro con quello che era sempre stata la categoria binaria occidentale di noi loro, identità pura, identità impura, marginalità, centro, periferia. Quindi insomma c'è proprio un attacco a queste teorie e soprattutto iniziano appunto le contronarrazioni. Gli autori importanti sono sicuramente Edward Said con questo libro che è Orientalismo in cui insomma getta le basi per una contronarrazione di quello che era sempre stata la costruzione dell'Oriente da parte degli occidentali. Un altro libro veramente importante è questo più recente ovviamente della Spivac, Critica della ragione postcoloniale, dove insomma abbiamo l'opportunità proprio di capire ed entrare a fondo di quelli che sono gli studi postcoloniali e le possibili critiche che si possono fare. E un altro libro molto importante dal mio punto di vista è quello di Achille Mbembe sul postcolonialismo. Tutti sono tanti altri libri interessanti che si possono leggere ma questi secondo me sono centrali per comprendere proprio le caratteristiche principali del mondo e della critica postcoloniale. Non posso non citare per quanto riguarda tutti gli studi dei subalterni anche Stuart Hall oppure l'importanza di Baba in India e quindi insomma sono tanti gli autori che si possono studiare ma questi secondo me sono i principali dai quali possiamo partire. Ma che cosa sono gli aspetti centrali che dobbiamo ricordarci quando parliamo di postcolonialismo e quindi di importanza di avere uno sguardo che faccia i conti col colonialismo, con quello che è stato fatto e soprattutto con le contronarrazioni. Cioè io credo sia fondamentale fra i punti da ricordare decostruire le grandi narrazioni, c'è quell'unica verità, quell'unica storia che è stata scritta dall'Occidente. Possiamo leggere tanti libri che arrivano proprio dalle contronarrazioni che dagli anni 70 in poi vengono fatte, anzi potremmo partire anche da un po' prima, da quelli che sono già gli studi di Fanon quando insomma grazie al suo celebre libro I dannati dalla terra comincia a raccontarci un po' una contronarrazione. Quindi il grande compito dello sguardo postcoloniale e degli studi postcoloniali è quello di criticare i modelli eurocentrici di modernità, di progresso, di sviluppo, cioè creare nuove ipotesi interpretative, dettate anche da quello che Derrida chiamava il soggettivismo decostruzionista. Io credo che questo sia veramente un ingrediente molto molto importante. Quindi insomma noi abbiamo bisogno di questi studi perché ci danno la possibilità di liberare finalmente le nostre menti e i nostri corpi un approccio etnocentrico ed eurocentrico che ci annebbia quando dobbiamo poi analizzare quello che succede. Cioè dobbiamo fare una riflessione critica rispetto al discorso egemonico occidentale, mettere in discussione quello che è sempre stato il modo di rappresentare l'altro da parte proprio del mondo coloniale. Io credo che non è soltanto fare i conti con uno sfruttamento delle risorse economiche. Io credo che dobbiamo fare i conti con quello che è stato un problema legato alla strutturazione cognitiva del colonialismo e quindi per fare questo dobbiamo veramente attaccare le nostre convinzioni eurocentriche e smetterla di negare l'identità dell'altro per affermare la propria. Sono convinto come antropologo che la nostra identità, che la mia identità si può creare in modo estremamente interessante proprio grazie all'apertura con l'alterità. Io esisto perché esiste qualcuno diverso da me e voglio mettermi e voglio pensare che riusciamo grazie alla decolonizzazione del nostro sguardo a metterci in relazione proprio non con delle barriere noi loro ma con un qualcosa che possa sconfinare da questa categoria categorizzazione binaria eurocentrica e che possa produrre proprio nuove identità, nuovi corpi sociali e soprattutto una nuova interpretazione libera dagli schemi etnocentrici. Grazie mille e ci vediamo la settimana prossima.